Cosa abbiamo fatto? Usiamo la parola bullies troppo, sicuramente. È qualcosa di diverso. Non è solo una persona che si mangia da qualcuno. Fisicamente. È qualcosa di più. È qualcosa che dolce molto più. E, per favore, prendi alcuni minuti della tua vita per guardare questo video. Questo. E inizia a fare la differenza.